Musica L'artista è come una sorta di nomade globale ed è chiaro che questa parola ha un'aula di libertà, di dissolversione perché non è senza nazione, senza patria, è qualcuno che è sempre in movimento Quello che per noi è importante è mettersi nelle nazioni, il condividere, il convivere con le persone che in questi luoghi vi abitano La felicità non è quella se non è condivisa In realtà è un luogo, un posto, rappresenta soltanto un simbolo, un pretesto per evitare a impattare Dice in qualche modo Marco contro quello stato, quel potere, il posto serve soltanto come intenzione verso questo limite, verso questo confine E quello che conta in fondo sono le relazioni che dentro questo spazio si riescono a instaurare Forse semplicemente il mio modo di viaggiare è quello di uno che viaggia da ferro Un perno attorno a cui ruotano gli artisti, tutti gli altrove, i curiosi, i viaggiatori che passano e portano un'atmosfera di progrette Questi luoghi sono dei perni attorno a cui ruotano delle cose, attorno a cui ruota un mondo E' un viaggio ferro Ci sono queste energie che passano come sotto la prima strata di terreno e si espandono in tutto il territorio I luoghi che sono importanti nei momenti in cui gli diamo un valore politico, non nei luoghi in sé Gli artisti sono un po' come i romani, mi piangono, hanno la stessa identica importanza dell'arrivo Tu le cominci a partire o tornare? Io adoro tornare La potenza delle relazioni, la differenza tra l'individuo e la collettività Ci chiedevamo come sarebbe lo spostamento dentro di me stessa che qualcuno mi interroga Il fatto di non avere garanzie Rafforza la tua vocazione di finestra aperta E quindi la spalanca continuamente, a volte anche faticosamente E altrimenti permette l'ingresso di tante cose Ciao, ciao a te, posso farti una domanda? Sì, secondo te è più importante l'acqua che sconde o il letto del fiume che la sostiene? Esistono l'uno per l'altro Come facciamo a fare in modo che questi luoghi possano realmente soppertire, possano realmente diventare un'altra partituale aria, non solo per noi, i nostri piccoli spazi, ma per il territorio Vogliamo fare qualcosa di diverso, vogliamo fare qualcosa di diverso, vogliamo fare qualcosa di diverso Questo tipo di processo, non voleva un luogo per continuare a fare quella cosa, ma volevamo andare avanti quel processo Quel processo non poteva essere rappreso all'interno di un'associazione pubblica C'è un pericolo che ci si avvicini troppo a quegli istituzioni, a quegli spazi istituzionali che magari vogliamo anche criticare o che molto spesso troviamo come antagonisti C'è un'azione del living in cui tutte le persone provano dentro gli occhi a fare evitare la persona che è nel centro Quindi vi chiedo tutti insieme di chiudere gli occhi e provare a fare volare questo ragazzo Via! Lo so, essere finito è straordinissimo quello che vi ho proposto, però penso che, cavolo sia anche giunto il momento di fare delle cose che non si possono fare, impossibili Cioè, proviamoci Anche se non sono abbastante intelligente come vorrei, vorrà E tu sai quanto è importante di regolare Viva la vita, Dai! L'arte è il campo stesso del conflitto E' uno spazio che si apre al possibile, quello che vogliamo fare anche il giorno prima Questo è un spazio normale, non solo per me Domanda Preferisci guidare o essere guidata? Guidare, ma non so in che direzione, forse faccio perdere, grazie Tu vuoi resistere, perché resisti? Sei indietro Ed è evidente che se ognuno pensa solo alla propria micro condizione professionale e resistenziale Non si riuscirà mai ad unire le forze Questo stare fuori per me non esiste Però scelgo di dare il mio tempo a questo tipo di nuova idea di produzione culturale Un nuovo modo di ragionare la fruizione e la produzione della cultura Mi borderline iятель di downtuben Miidiscanti Mi tedeschi Mi confчики Mi meltiamo In mamica Mi Mi dei cittadini. Ma secondo te è il primo finale l'acqua che scorre è un metodo più che la sostiene. Sempre l'acqua perché scivola più. Arte come campo di battaglia. Sto cercando di capire se in questo momento storico quello che penso abbia senso. Posso farti una domanda? Certo che sì. Cosa ti fa piangere? Il dolore degli altri e la mia incapacità di essere utile. Diciamo che nella parola fuori legge la parte che mi piace meno è la parola legge, la parte che mi piace più è la parola fuori. La parola fuori legge implica che si giudano scuole, spedali, asili, servizi pubblici, assistenziali, si giudano il lavoro per l'iniziale. Allora io da questa legge mi sento di voler stare a fuori e lo faccio anche dimenticando proprio con orgoglio, un gioco. Se ogni tanto uscissimo anche dalla fotomia legale e illegale è la parola fuori legittima. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.